ha segnato la juventus ciao a tutti ragazzi ben ritrovati qui al jcaffè spero stiate tutti bene non è un episodio ufficiale no di speedy tactics ma credo comunque sia giusto parlare di tattica affrontare il tema tattico e quello relativo principalmente alla formazione della juventus no la nuova formazione della juventus ci separano praticamente 72 ore da juventus verona e quindi anche giusto capire la formazione che il nostro allenatore andrà a schierare per il posticipo della giornata di di serie a secondo voi secondo voi vlaovic e zaccaria partiranno fin da subito da titolari fin dal primo minuto io credo spoiler credo che nessuno di due giocherà domenica sera dal primo minuto ma su questo tema vorrei tornarci poi nella parte conclusiva del video prima vorrei fare un passo indietro un passo indietro e cercare di capire insieme a voi quale potrà essere no la formazione definitiva di questa juve dunque io ho già rilasciato l'episodio di speedy tactics in cui tratto questo tema in cui vi do anche diverse proposte no di formazione perché credo comunque che un po per la natura camaleontica del nostro allenatore un po per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo in squadra credo che sia giusto non soffermarsi soltanto su un modulo ma comunque tenere aperta la possibilità per diversi schieramenti il video lo trovate qui nelle schede se non l'avete ancora visto e lì sicuramente c'è un'analisi approfondita ma ieri ieri sono stato in live ospite dai ragazzi di ajg e loro e loro mi hanno fatto determinate domande insieme a loro abbiamo discusso proprio sul tema tattico e su quella che potrà essere la formazione definitiva della juventus e credo un po che al termine della della conversazione sia venuto fuori un po il pensiero comune che sta in realtà mettendo d'accordo un po tutti i tifosi della juve cioè l'addio di dejan kuruseski l'infortunio di federico chiesa e l'arrivo anche di dusan vlaovic e la permanenza contemporaneamente di alvaro morata sposta un po il focus e quindi anche il punto di forza della nostra squadra dalle fasce laterali a una zona più centrale no del campo e quindi il modulo per eccellenza che ti va a sfruttare la qualità in mezzo al campo è sicuramente il rombo è sicuramente il 4 3 1 2 che è un po il modulo che vedo anche in tutte le formazioni no che passano per instagram che passano su twitter insomma ormai il 4 3 1 2 è veramente diventato il modulo che sembrerebbe vestire meglio su questa nuova juventus io credo che qua si apra un secondo tema che è quello della fase difensiva no perché ieri facevo vedere appunto in live qualche lavagna tattica e tanti ragazzi no anche in chat chiedevano ma secondo te questo tridente di bala vlaovic morata è sostenibile cioè al dià del fatto che allegri possa schierarlo no cioè effettivamente sostenibile uno schieramento di questo tipo un attacco di questo tipo considerando che poi sì sicuramente morata non è un centroavanti tipico ma non è nemmeno un'ala tipica no quindi stiamo parlando comunque di un esterno d'attacco anche in questo caso atipico è un po adattato quindi giustamente qualcuno diceva secondo me questo modulo non lo vedremo mai perché è insostenibile questo reparto offensivo in più in più mi è stata fatta anche questa domanda ma secondo te con l'arrivo di zaccaria artur è definitivamente tagliato fuori dalla formazione titolare perché comunque stava ingranando anche noi su questo canale diverse volte abbiamo parlato del doppio play e quindi del del binomio no insieme a manuel locatelli e quindi la domanda è lecita cioè artur è veramente tagliato fuori perché se piazziamo zaccaria davanti alla difesa locatelli va sulla mezza alla sinistra meccani va sulla mezza alla destra e non c'è posto per artur allora qua credo che vengano fuori due tipologie di 4 3 1 2 la prima in cui artur è fuori di bale dietro le punte morate vlaovic sono la coppia d'attacco sicuramente una formazione suggestiva sicuramente una formazione che piace che piace perché è piena di nomi di qualità è piena di qualità è piena di talento è piena di giocatori di carattere quindi anche offensivo il secondo invece è il 4 3 1 2 con zaccaria davanti alla difesa locatelli sulla sinistra artur mezza alla destra quindi torniamo alle origini quando giocava al barcellona e meccani ragazzi meccani dietro la punta e là davanti vlaovic che fa coppia con uno tra dibala e morata meccani quindi in questo caso che diventano un po il vidale del primo anno della prima juve di max allegri quel centrocampista molto offensivo che diventa centrocampista e giocatori di rottura quindi che ti va a marcare a uomo praticamente il regista avversario e che poi diventa giocatore centrocampista di inserimento in fase offensiva per andare a sfruttare il suo senso del gol la sua capacità di saltare il suo tempismo nel colpo di testa ma nell'impattare il pallone anche palla a terra no quindi nel fiutare proprio l'azione da golle è anche questa sicuramente una bella formazione anche perché ti tieni morata come jolly ha partito in corso quindi insomma sono tutte sono tutti ragionamenti ragazzi che allegri starà facendo e rifacendo dopo allenamento durante allenamento prima di allenamento prima di andare a dormire sono sicuramente ragionamenti che fa sicuramente anche lui e come vi dicevo non è da escludere a priori una soluzione rispetto all'altra cioè abituiamoci all'idea anche di avere più soluzioni a disposizione anche perché è una squadra che ha più soluzioni e ha più tema tattici secondo me è anche una squadra più imprevedibile e più difficile da preparare anche per un allenatore che ci deve venire ad affrontare se volete un mio parere a riguardo guardando questi 4 3 1 2 allora parto dal secondo a me non convince troppo ma per un semplice motivo cioè mi piace l'idea che ci sia anche Arthur perché aggiungere questa qualità e aggiungere questo uomo di rottura lì davanti mi piace molto mi mi carica anche soltanto al pensiero di avere un centrocampo non dico in qualità in livello ma comunque come struttura simile a quello di berlino contro il barcellona ma non mi convince perché non credo che quello sia il ruolo giusto per mccanny e vi spiego perché mccanny è forte quando arriva in quella posizione lì non quando si fa trovare già in quella posizione lì è un concetto molto diverso ragazzi che magari è poco chiaro per chi mastica per chi non mastica troppo calcio e per chi non ha mai giocato a calcio quindi cerco di spiegarmi meglio mccanny è un giocatore letale quando lui arriva nella posizione di tre quarti oppure dentro l'area quando ci arriva con un movimento senza palla ma non quando deve smarcarsi e farci trovare tra le linee quel ruolo lì di rifinitura da tre quartista puro non gli appartiene e se voi ci pensate ragazzi allegri lo ha già provato in quella posizione lì mccanny e stiamo parlando di juventus empoli seconda giornata di campionato dove la juve perde in casa e io purtroppo ero allo stadio avevamo provato in quella formazione lì insomma avevamo fatto una formazione un po' strana con danilo davanti alla difesa ma in quella partita lì era evidente nel primo tempo come mccanny fosse proprio il tre quartista dietro la punta non ci ha campanato niente ragazzi non ci ha campanato niente ma perché lui nel primo controllo è ancora troppo grezzo è ancora troppo poco pulito e soprattutto non ha l'ultimo passaggio e quella è una posizione una posizione che deve ricoprire uno che invece in rifinitura è eccellente come può essere per esempio di bala e non ha i tempi non ha i tempi di gioco in quella posizione lì ma non ha nemmeno la lettura dell'azione da dire mi metto e mi oriento correttamente con il corpo no non so se mi state seguendo ma mccanny trequartista fisso non ce lo vedo assolutamente dovrebbe essere come dire un falso trequartista dove praticamente mi va a fare poi la punta aggiunta no quindi c'è ci dovrebbe essere questo continuo scambio di posizioni tra mccanny e di bala con di bala che va a ricoprire la rifinitura e mccanny che va a fare quasi la punta no la seconda punta aggiunta al fianco di morata oppure di vlaovic ma non mi convince per questo motivo qua secondo me la mezza alla destra è il ruolo perfetto di mccanny perché ha il modo di correre in avanti ha il modo di correre in orizzontale e più vicino e da più e da più copertura anche in una fase di appunto di ripiegamento e poi lì ti permette davvero in quella posizione lì di avere anche più spazio e più tempo di pensare anche all'inserimento senza palla che potrebbe arrivare magari da da un compagno no e quindi questa soluzione non mi convince mi convince di più paradossalmente l'altra quella in cui schieriamo tutto il tridente di bala morata vlaovic e qua subentra sempre no il tema dell'equilibrio ne parlavo anche all'inizio del video cioè in tanti anche ieri in live mi dicevano non lo possiamo sostenere io non sono d'accordo io non sono d'accordo innanzitutto perché è pieno al mondo di squadre che giocano con centrocampi attacchi che sono ben più leggeri e ben più offensivi del nostro ragazzi ma voi non sottovalutate punto uno non sottovalutate l'equilibrio che ti da zaccaria perché è un mediano vero è un mediano puro davanti alla difesa che ti corre in orizzontale ti da tantissimo equilibrio da quel punto di vista lì e quindi tu ti puoi permettere anche un giocatore offensivo in più perché fa tutta la differenza del mondo anche solo a livello di prestanza fisica perché il pianici di turno l'artur di turno per quanto possono essere giocatori intelligenti anche nella fase di interdizione però fisicamente ragazzi i due metri di gamba di zaccaria valgono quattro gambe di pianici no cioè ci siamo intesi è proprio una logica completamente diversa ma punto numero due punto numero due ragazzi io credo che la fase difensiva stia molto stia molto nell'attitudine di un giocatore e non soltanto nelle caratteristiche deve essere l'attitudine del giocatore che è predisposto a mettersi a disposizione della squadra anche a costo di rinunciare magari a una gioia personale in più e qui subentra anche la bravura dell'allenatore nell'andare a convincere poi il giocatore a fare un certo tipo di lavoro per la squadra a discapito della propria magari soddisfazione personale guardiamo in casa juve faccio l'esempio di manzukic faccio l'esempio di manzukic immagino non sia stato facile per allegra andare da manzukic e dire guarda devi farmi l'esterno di sinistra e quindi manzukic che comunque campione affermato è lì che si deve dire dopo 15 anni di carriera aspetta un attimo che per la squadra esco un po' da quello che è il centro del reparto offensivo e vado a fare l'esterno perché così la squadra ne giova in fase difensiva ci vuole comunque del cuore da parte del giocatore ma ci vuole bravura anche nell'allenatore nel convincere il giocatore a fare questo tipo di gioco qua e anche comunque ad impartire un certo principio di gioco un certo tipo di valore da mettere a disposizione della squadra ma io su questo sono molto fiducioso ma non tanto per alleghi ma per morata perché morata è un giocatore fortemente generoso è un giocatore che ama mettersi a disposizione della squadra tante volte nel corso di una partita lo vediamo rincorrere gli avversari anche lungo la fascia per dare una mano in fase difensiva quando la squadra sta soffrendo e quando la squadra ha bisogno di quello e quindi sì quindi sì ragazzi io sinceramente credo che si possa con un 4 3 1 2 credo che veramente si possa difendere con una linea 4 in cui mckenny fa l'esterno di destra parlo di fase difensiva mckenny esterno di destra zaccaria e locatelli due centrali e morata sulla sinistra con dibala che in questo caso invece un giocatore proprio fisicamente strutturalmente meno portato per questo tipo di richiesta no in fase difensiva dovrebbe semplicemente limitarsi a giocare e a rompere le scatole a dare fastidio al regista avversario e credo che sia fattibile vi faccio un altro esempio usciamo un attimo dal confine juve samuel eto ragazzi samuel eto l'inter ci ha vinto il triplete basandoci su samuel eto che probabilmente sarebbe stato l'ultimo giocatore a cui di cui potevi immaginarti che avrebbe fatto una fase difensiva di questo tipo lui giocava proprio largo nel 4 2 3 1 nel 4 2 3 1 largo ed era un po il mazzo che ci di turno ti dava proprio quella sensazione di giocatore completamente a disposizione della squadra e quindi deve essere bravo il giocatore a mettersi a disposizione ma deve essere bravo poi anche l'allenatore a convincere il giocatore stesso e quindi se io devo pensare ad una formazione per la juve per quest'anno è perché poi quando rientra chiesa le cose magari cambiano almeno che tu dici chiesa diventerà una mezza punta visto che magari anche col crociato perderà un po di velocità da far giocare sull'esterno però questo 4 3 1 2 al momento è quello che a me convince e 4 3 1 2 con dibala morate vlaovic io l'ho detto diverse volte ragazzi è il momento del coraggio e con questa squadra a disposizione è il momento di avere coraggio di prendere in mano la situazione e di sfruttare le risorse che la società è stata brava a metterti a disposizione chiudo con juventus verona in tutto ciò dimenticatevi quello che vi ho appena detto perché credo che contro il verona giocheremo con il 4 2 3 1 artur rabiot davanti alla difesa mckenny largo a sinistra quadrado sulla destra dibala dietro la punta e morata prima punta perché comunque dibala rientra tardi dalle nazionali ma comunque rientra venerdì quindi avrà scusate rientra oggi da domani comincia ad allenarsi avrà comunque 48 ore per prepararsi credo che gli farà fare una sessantina di minuti e poi l'ultima mezz'ora potremo vedere dusan vlaovic